tanto sul laboratorio innovazione anche perché segue appunto il discorso sul contesto della ricerca che vi hanno già descritto in maniera molto esaustiva Claudio e Alessandro. Poi daremo la parola a Caterina Viviano, Michele Dalò e Giovanni Lombardo e Claudio Santoro per la presentazione degli output del laboratorio innovazione. Cogliamo questa occasione anche per ringraziare tantissimo i team che hanno lavorato con noi quantomeno alla realizzazione. A noi piace dire anche alla riuscita di questo primo anno di sperimentazione del laboratorio innovazione. Li ringraziamo anche per averci supportato in qualche modo in questo anno che non è stato facile quindi avete anche saputo come dire superare con noi alcune difficoltà organizzative che oggettivamente ci sono state. Quindi il laboratorio innovazione che cos'è e quali sono gli obiettivi? Nasce nel contesto che vi hanno già raccontato i nostri colleghi quindi di tentativo di rafforzare il ruolo dell'innovazione e della ricerca in istituto e che cos'è? È proprio uno spazio fisico dedicato che permette a ricercatori, a colleghi di dedicare del tempo alla ricerca e di dare così un contributo in termini di innovazione all'istituto. La cosa fondamentale che ha ottenuto il laboratorio innovazione è stata una collaborazione, il fatto che qui siamo in tanti e provenienti anche da strutture molto diverse, ne è la conferma, di professionalità e competenze distinte. Quindi sono stati messi a lavorare nello stesso luogo per progetti comuni finalizzati al miglioramento della qualità dell'informazione statistica a persone provenienti da strutture diverse. Che cosa abbiamo fatto durante questo anno di sperimentazione? È stata aperta la prima colla a giugno ed è stata aperta per tre mesi fino a settembre. Dopodiché è iniziato l'iter di valutazione delle idee che anche qui ha visto coinvolti esperti di diversi settori, innanzitutto della direzione informatica, esperti tematici, metodologi e che hanno valutato, fatto una prima prevalutazione relativa alla sostenibilità e alla fattibilità dei progetti presentati, fino a essere presa la decisione finale sui progetti ammessi al laboratorio dal comitato ricerca di cui vi ha parlato Claudio e che ha valutato in base alla istruttoria fatta da questo team di competenze diverse, valutando comunque come requisito fondamentale la funzionalità dei progetti alla produzione statistica. Cioè questi progetti effettivamente serviranno a migliorare la qualità della informazione statistica, a migliorare i processi di produzione statistica, i processi a supporto della produzione statistica. Dopodiché sono stati sempre nella stessa logica costituiti i vari team, cioè sono state innanzitutto evidenziate le esigenze di carattere informatico, ma anche le esigenze di carattere, le professionalità che servivano alla realizzazione dei progetti e sono stati costituiti team che hanno poi dato avvio e poi hanno realizzato i progetti che andremo da qui a poco a descrivere. Allora, grazie a cosa sono stati avviati questi progetti? Grazie a uno dei punti di forza che è stato quello del laboratorio, che è appunto il principio di collaborazione. Il principio di collaborazione che noi avevamo pensato già essere un elemento guida nella realizzazione del progetto stesso e che è stato anche un elemento di guida nella realizzazione del progetto laboratorio se stesso. Sostanzialmente grazie quindi alla collaborazione tra diverse direzioni dell'Istituto si è potuto inaugurare il Laboratorio Innovazione lo scorso marzo e in particolare grazie alla collaborazione con DICIT si è proceduta all'implementazione informatica del laboratorio, grazie alla collaborazione con DIGEN, all'implementazione logistica e alla gestione della comunicazione interna, grazie alla collaborazione con DIPS sostanzialmente si è riuscito a definire progettualmente nelle idee, diciamo, la parte rilevante dal punto di vista tematica e grazie alla collaborazione con DICCO si è sostanzialmente gestita la comunicazione verso l'esterno e il branding del laboratorio Il DICCO ci ha anche lasciato lo spazio perché era... Certo E soprattutto grazie poi al Comitato Ricerca che sostanzialmente è il comitato di governance e di guida di indirizzo del laboratorio. Grazie a questo sostanzialmente sono stati avviati i primi progetti i primi progetti che sono stati selezionati all'interno della prima colla del giugno 2017 che ha visto sostanzialmente coinvolti i 33 colleghi per l'invio di 27 proposte. Sostanzialmente questi progetti sono stati selezionati all'interno dell'area del programma innovazione, ne sono stati selezionati sei e praticamente tre sono quasi terminati e sono praticamente i temi dei prossimi interventi. Concludo semplicemente informando che è stata avviata la seconda colla per il laboratorio innovazione e stanno attualmente pervenendo le nuove idee che saranno realizzate nel 2019. Grazie per l'attenzione e... Grazie mille. Buon poveriggio a tutti, sono Caterina Viviano. illustro i risultati raggiunti da questo progetto che appunto come è stato già detto dai colleghi è uno dei progetti che è stato avviato all'interno del laboratorio per innovazione. Il titolo è Web Mining per integrare e validare le informazioni del registro statistico delle imprese attive. Allora, diciamo che questo progetto è un progetto che ha unito appunto diverse professionalità, professionalità del tematico come vedete il registro statistico delle imprese è un prodotto che noi produciamo già da anni in istituto ed è ottenuto da un processo produttivo standard, classico diciamo, utilizzando fonti amministrative. invece l'obiettivo di questo progetto era proprio quello di utilizzare i big data, quindi informazioni che vengono acquisite dal web e in particolare informazioni sulle singole imprese acquisite con diverse tecniche di cui farò un brevissimo escursus, ha supporto e proprio per essere integrata all'interno del registro statistico. Quindi di fatto ha un obiettivo molto grosso perché è quello di praticamente integrare all'interno di una struttura strutturata, quindi diciamo sempre a regime solida, dati che sono per loro natura destrutturati, presi dal web. Il progetto appunto ha già realizzato un primo risultato che è quello di un prototipo che contiene un set di informazioni ottenute e classificate a livello di singola unità, di singola impresa, con degli obiettivi che erano effettivamente gli obiettivi che ci eravamo posti, e cioè perché utilizzare questa fonte così, diciamo, destrutturata, la nuova fonte dei big data ai fini del registro? Proprio per ottenere informazioni da un lato più aggiornate, perché sappiamo che le informazioni che ricaviamo dal web sono, diciamo, informazioni che sono real time, quindi di fatto sono informazioni che riguardano quello che sta succedendo proprio in quel momento, diciamo, nell'ambito dell'impresa in questo caso. Informazioni che quindi sono molto più aggiornate rispetto alle informazioni classiche che otteniamo dai dati amministrativi, ad esempio, ma anche dalle indagini statistiche. Inoltre sono informazioni utili proprio per completare quello che già abbiamo nel registro, quindi informazioni che hanno una copertura magari non buone, che possono essere completate dall'uso di questi dati. Un altro importante diciamo obiettivo era quello proprio di validare, quindi di verificare le informazioni che erano già presenti nel registro, affiancando delle informazioni per farne valutazioni anche di qualità. Nonché, la cosa diciamo anche molto più importante, è quella di aggiungere un nuovo contenuto informativo che non avremmo assolutamente mai da fonti amministrative, ad esempio, che magari non coprono tutta la popolazione delle imprese, ma delle sottopopolazioni o delle particolari classi di popolazione e quindi avere naturalmente un maggiore set informativo. Chiaramente questo tipo di risultato, che è un prototipo in questo momento, a regime avrà l'obiettivo di permettere la produzione di statistiche sperimentali, da affiancare alla classica produzione appunto tradizionale delle statistiche sulle imprese. Probabilmente in un futuro si potrà pensare alla possibilità di integrare queste informazioni in un processo diciamo a regime e quindi di utilizzarlo anche per produzioni più standard, anche di statistiche ufficiali, in un prossimo futuro. Allora, sicuramente uno degli elementi diciamo strategici di questo progetto è stato quello di coniugare queste due logiche. la logica proveniente dal classico uso dei big data e quindi un approccio data driven in cui è il dato stesso che fornisce un'informazione di fatto nascosta in tutto quello che si può ricavare dal web e che in genere nelle precedenti sperimentazioni era stata utilizzata proprio per ricavare e classificare a posteriori questa informazione e farne anche delle strategie con invece una logica di tipo standard, cioè output oriented che è quello dei processi statistici, quale quello del registro in questo caso. Per cui questa sfida di mettere insieme queste due logiche è stato classificato, definito come un approccio cosiddetto register based proprio perché è il tematico in questo caso, il registro, che guida un po' le modalità di cosa utilizzare e come integrarlo all'interno del registro. Allora qui diciamo è una un po' una sintesi della strategia e delle tecniche utilizzate per acquisire queste informazioni. Ci sono più fasi, queste fasi non sono chiaramente fasi diciamo che vengono svolte in maniera sequenziale ma sono delle fasi che si intersegano. Siamo partiti da un campione estratto da registro di circa 100.000 imprese che si sono poi arricchite di qualche altra unità ricavata dal web. Attraverso tecniche di web scraping siamo andati a cercare sul web gli urli disponibili. Gli urli disponibili erano pochi rispetto a quelli che avevamo già all'interno del registro perché provenivano appunto da fonti amministrative che avevano una copertura molto parziale dell'indirizzo web dell'impresa. E quindi si è proceduto con sempre tramite web scraping con l'ottenimento nel caso di urli mancanti di urli direttamente o accedendo a portali di imprese tipo portali delle fiere, altri portali diciamo tematici dove si registravano le imprese oppure con tecniche di urli retrieval sono stati scaricati questi urli in batch direttamente accedendo ai motori di ricerca e poi con tecniche successive di machine learning sono state estimate chiaramente le probabilità che quegli urli fossero esattamente urli esattamente probabilisticamente anche urli che riguardavano esattamente le unità a cui eravamo interessate. Una fase fondamentale è quella dell'identificazione cioè una volta che vengono scaricate queste informazioni oltre alla diciamo al check dei oddio al check forse è il caso di mettere il cavetto al check dei urli che eravamo avevamo diciamo vabbè fra poco crolla e non c'è cavo vabbè io continuo dai magari ancora resiste. Era quello appunto di estrarre le informazioni anagrafiche direttamente dal sito web proprio per cercare di capire se quello che era stato estratto effettivamente corrispondesse all'unità a cui eravamo interessati quindi praticamente tecnica di information retrieval con utilizzo di pattern matching su string e quindi di ricavare da questo set informativo chiavi quali il codice fiscale e la partita IVA che poi ci permettevano di fare appunto abbinamento con il registro e anche tecnica chiaramente di matching di string per identificare la coerenza della... vabbè io continuo... Ah è diventato molto più luminoso io posso dire questo... Allora è la spinta... Ah molto meglio poco fa mi stavo cercando... Ok dopodiché appunto come vi dicevo la fase dell'identificazione dell'impresa cioè della corrispondenza delle informazioni acquisite con l'unità statistica che avevamo a disposizione a cui linkare questa informazione è fondamentale una volta che diciamo viene validata la coerenza e l'identificazione dell'unità con queste tecniche soprattutto tecniche di test mining veniva letto il contenuto informativo di tutto quello che è stato estratto e quindi praticamente l'informazione che poteva essere aggiunta alle unità che poi sono quelle del registro e quindi praticamente dati, altre variabili, documentazione, metadati, file, pdf e così via. Ok... Vi illustro diciamo qualche risultato che abbiamo appunto ottenuto. Sulle circa 130.000 imprese identificate quindi con l'indirizzo web chiaramente identificato e corrispondente all'unità del registro. Alcune informazioni molto interessanti riguardavano l'attività svolta dall'impresa quindi per ottenere queste informazioni sono state utilizzate delle tecniche le meta informazioni cosiddetti meta tag presenti dentro le pagine web. Inoltre sono state usate anche interrogati i motori di ricerca direttamente per acquisire questa informazione. Quindi qual è il valore aggiunto? chiaramente noi nel registro abbiamo le classificazioni ufficiali dell'attività economica ma provengono sempre delle fonti amministrative. Come l'impresa si presenta sul web lo descrive anche attraverso i listini o altre tipologie di informazione da cui viene estratto appunto con questi meta tag la dicitura e quindi questa informazione ci aiuterà a classificare meglio a dare anche attività secondarie e quindi ad aggiungere informazione o a validare l'informazione sul registro. Molte altre informazioni aggiunte sono state quelle relative ai contatti. Il contatto dell'impresa anche lì è rilevante in questo caso per esempio le mail siamo riusciti ad ottenere a estrarre dal web molte mail, circa il 95% di tutte le unità identificate siamo riusciti a ricavare l'informazione sulla mail. Un po' di meno nel caso del recapito telefonico per esempio abbiamo acquisito per il 57% delle imprese il telefono fisso, il fax e il cellulare. non che queste non fossero presenti nei registri ma avevano una copertura parziale. Quindi in questo modo incrementiamo praticamente la copertura dell'informazione. Invece per quanto riguarda informazioni aggiuntive per esempio una cosa interessante è stata l'identificazione delle imprese che esponevano direttamente un link a un social media. questo è proprio numericamente aver associato numericamente all'insieme delle unità che abbiamo identificato l'esistenza di questi link. Chiaramente questo apre una possibilità a nuove analisi perché veniamo a conoscenza dell'uso dei social media da parte dell'impresa e che cosa possono farci per ricavare eventuali profili delle imprese o fare ulteriore analisi con altri indicatori o ulteriori approfondimenti. Così come per esempio l'identificazione e il download di file in pdf. Una cosa che è stata riscontrata sui siti web delle imprese è per esempio la presenza di bilanci in pdf oppure di cataloghi di prodotti. In questo caso sono stati scaricati proprio questi pdf che possono quindi essere agganciati proprio all'informazione puntuale dentro il registro usati da tutti ma anche sono state fatte delle analisi testuali all'interno dei pdf per ricavare proprio di che cosa si tratta si tratta di un bilancio, si tratta di un catalogo e così via. Invece l'ultimo esempio era quello degli indirizzi anche in questo caso gli indirizzi fisici, stradali sono presenti nel registro però è fondamentale in questo caso per esempio acquisire informazioni se esistono ulteriori indirizzi per le unità locali o anche capire il grado di copertura delle unità locali a livello di indirizzo delle imprese. Allora che cosa posso sintetizzare di questa esperienza? Sicuramente è stata un'esperienza molto positiva e molto costruttiva perché proprio per quello che è stato detto anche prima le professionalità che hanno collaborato al successo di questo progetto sono di diversa natura sono esperti metodologi, sono informatici, siamo noi tematici e gli avanzamenti proprio nel creare questo prototipo è stato fatto grazie proprio al fatto che ogni volta che si andava avanti nell'analisi dei risultati si faceva un'analisi critica dei risultati e si procedeva proprio si andava avanti nel step successivo. Quindi questa sinergia e questa collaborazione è sicuramente un elemento vincente. Con questo esperimento chiaramente è stata creata una procedura prototipale che ha validato i standard di web mining eccetera eccetera, text mining, web scrapping e un ruolo fondamentale che è stato sicuramente validato è proprio la necessità che ci sia il tematico in questo caso a validare il dato estratto e quindi ad agganciare queste informazioni puntualmente con i microdati. Come dicevo prima quindi il laboratorio diventa appunto questo prototipo un punto di partenza per poi produrre statistiche sperimentali per esempio quello di creare nuove tassonomie di impresa e quindi nuove profili di impresa nuove classificazioni differenti dalle classificazioni ufficiali. Giusto per dare un risultato di questa sperimentazione alcuni punti su cui porre attenzione. Alcuni punti su cui porre attenzione sono abbastanza tra virgolette banali. È chiaro che più dati si vogliono gestire e più importante c'è un maggior consumo di risorse. Quindi non è tanto un problema tecnologico ma piuttosto è un problema proprio di disponibilità di giga in termini di calcolo e di storage perché comunque nell'aggiornamento dei registri se vogliamo mettere a regime una cosa del genere i big data devono essere archiviati e conservati e occupano tantissima memoria. Come punti di forza posso dire che appunto il risultato sarà questa costruzione di questo repository di dati da affiancare a tutte le altre tabelle dei registri identificati che possono essere quindi agganciati ai dati del registro e quindi essere di supporto a qualsiasi analisi tematica. Un altro forte punto di forza è sicuramente il fatto che big data a differenza delle fonti amministrative ad esempio sono una fonte sicuramente indipendente. Ci dicono come l'impresa si rappresenta nella realtà quindi di fatto è come effettivamente dovrebbe essere la realtà e quindi quello che lei vuole che sia rappresentato di se stessa. Per chiudere volevo semplicemente dire che appunto questo progetto ha visto queste figure dei tematici, dei metodologi e dell'informatica che in una sorta di circolarità della conoscenza e dell'informazione quindi in qualche modo è questo il messaggio e quindi il successo di questo progetto e cioè del team che vedete qua esattamente in tutti i singoli nomi e cognomi che ha effettivamente permesso il raggiungimento di questi risultati. sono stata velocissima, grazie. Applausi 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 molto dettagliato, utili a supportare le politiche urbane in basso alle specificità territoriali. L'idea è partita da esigenze iniziali del Comune di Roma, che ha bisogno di alcuni indicatori a livello di Comune metropolitano e quindi è partita dall'idea di provare a stimare alcuni indicatori del benessere per tutti i Comuni metropolitani e per altre aree. Inizialmente le province, in seguito vedremo a che livello ci può esistendere e in più si pensava di considerare delle aree funzionali, quindi delle aggregazioni funzionali di comuni molto piccoli. L'idea è quella di sfruttare, oltre all'informazione proveniente da le indagini principali dell'Istat, le nuove fonti di informazione, in particolare i dati amministrativi, probabilmente da Archimede. Il risultato atteso è quello di proporre una metodologia utile a fornire stime che siano molto dettagliate e che permettano contemporaneamente di fornire un'informazione che sia coerente con quella usualmente diffusa dall'Istat. I partecipanti al progetto sono quelli che leggete lì e fanno parte di due dipartimenti in direzioni differenti, in più c'è Clementina Villani del Comune di Roma, la professoressa Ranalli e Gaia dell'Università di Perugia e Gaia Bertarelli dell'Università di Pisa. I parametri di interesse su cui ci siamo focalizzati sono questi qua, il rischio di povertà, la diseguaglianza del rendito, la bassa intensità lavorativa e la severa deprivazione materiale. Qui potete leggere le definizioni, io vado avanti anche per una questione di tempo. I dati disponibili usualmente provengono dall'indagine USILC che fornisce stime a livello regionale che è il dominio benificato dal disegno dell'indagine. Le piccole aree in questo caso sono province e comuni metropolitani e appunto di questi indicatori attraverso Archimede è possibile calcolare delle proxy di questi indicatori, però a causa di differenti definizioni, soprattutto riguardanti il rendito, questi indicatori non coincidono con quelli prodotti dall'ISTAT tramite indagine a livello di dominio calificato e qui entra il problema della consistenza e della coerenza dell'informazione fornita dall'ISTAT. Questi sono, non so se si vede la mappetta, questa è la dimensione campionaria dell'indagine di USILC, nella tabella c'è un focus sui comuni metropolitani, questa dimensione campionaria essendo i domini non pianificati è molto variabile, di conseguenza anche la precisione di eventuali stime è molto variabile. Pertanto al fine di assicurare delle stime che abbiano un livello di precisione più alto o si è pensato di utilizzare dei metodi di stima per piccole aree che in stima sintesi prendono forza dalle altre aree mettendo in relazione la variabile di interesse con variabili di tipo amministrativo di archivio attraverso la definizione di un modello. I modelli che abbiamo applicato finora, da poco abbiamo la disponibilità dei dati a livello di unità, sono dei modelli definiti a livello di area e le variabili ausiliarie utilizzate nel modello sono le variabili proxy appunto calcolate tramite Archimede relative alla povertà relativa alla bassa intensità lavorativa alla diseguaglianza del reddito e variabili ausiliarie di tipo demografico, qual è l'esempio percentuale di popolazione straniera occupato che appartiene a una determinata classe di età per sesso. Questi sono i primi risultati da quello che si può vedere per i vari indicatori. Gli indicatori calcolati tramite il dato amministrativo, usualmente presentano un sovradimensionamento del fenomeno. Le stime sono usualmente più basse, sia quelle tramite stimatore diretto che tramite stimatore per piccolare. Le stime per piccolare permettono di ridurre in alcuni casi anche notevolmente l'errore delle stime, quindi l'intervallo di confidenza delle stime e la precisione stessa delle stime. Questa è la stessa cosa per lo stesso grafico, però riferito solo ai comuni metropolitani, più o meno la situazione è la stessa in cui si amplifica la differenza tra le stime e il dato di Archimede. Ancora qui potete vedere le differenze tra le stime e il dato di Archimede, spesso il dato di Archimede esce notevolmente fuori non solo a un valore diverso, ma esce anche molto al di fuori, tranne in alcuni casi dell'intervallo di confidenza delle stime. Tuttavia si può notare una correlazione molto forte tra le variabili di interesse e le proxie di Archimede, per cui questa è la regione per cui abbiamo pensato di utilizzarle come covariate nei modelli che abbiamo utilizzato. Devo andare velocissimamente perché credo il tempo sia per scadere. Questi sono i più risultati per il rischio di povertà, le stime, mappando le stime c'è una buona coerenza tra le stime, i CV si abbassano, qui c'è un focus sui comuni metropolitani, si vede ancora la differenza tra stime e il dato di Archimede e questa è la diseguaglianza del reddito. Mi soffermo un attimo su questo indicatore che è un indicatore molto particolare perché è dato dal rapporto tra le code di una distribuzione per cui sicuramente è molto influenzato da valori anomali e nelle piccole aree si aggiunge la bassa dimensione del campione. Salto queste altre, le conclusioni sono più o meno le stesse anche per gli altri indicatori, quindi vado direttamente alle conclusioni. Quello che abbiamo potuto vedere è che i dati amministrativi sono importanti al fine di ottenere miglioramenti di efficienza delle stime piccole aree e soprattutto quando si si introduce nei modelli una correlazione spaziale tra le aree. Quello che c'è ancora da fare riguarda una valutazione più approfondita dei risultati ottenuti, l'utilizzo di modelli più complessi a livello di aria che sono modelli a variabili latenti, l'utilizzo di modelli definiti a livello di unità elementare, l'utilizzo di stimolato di tipo projection e la definizione di aree di tipo funzionale che permettono una migliore interpretazione dei risultati per i piccoli comuni e poi quella finale, quello del benchmarking a fine di ottenere delle coerenze tra le stime prodotte e le stime diffuse dall'istante. Questo è una bibliografia e ho finito. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Io sono Giovanni Lombardo, mi sono occupato insieme a Macchia, Santoro e Cuccia del progetto raccoltato per il censimento dell'agricoltura 2020, che è un progetto che ha più o meno complicato interesse di avere un impatto alto in alcune di quelle che sono le iniziative Istat, soprattutto nel discorso della microzonizzazione, quindi della nuova stesura sul territorio delle sezioni di censimento e poi soprattutto per quanto riguarda la base cartografica, che poi andremo a vedere nel dettaglio, per quanto riguarda il censimento dell'agricoltura del 2020. Questi sono quelli che vedete i partecipanti al progetto, procedo in maniera estremamente veloce e estremamente schematica, quali sono stati i nostri input, innanzitutto il discorso delle basi territoriali Istat, quindi la metodologia Istat per descrivere oggetti geografici che descrivano l'oggetto geografico in maniera estremamente fine e molto precisa, è utilizzata con il sistema di riferimento utilizzato per l'ultimo censimento del 2011 ed è rappresentato dal sistema sezioni di censimento e maglia dei comuni, è allo strato in digitale delle particelle catastali georiferite che ci viene fornito dall'agenzia delle entrate e i fascicoli aziendali AGEA che è una parte tabellare che praticamente contiene tutte le informazioni inerenti alle aziende agricole. Ora il nostro criterio era fare uno studio di fattibilità qualora fosse possibile andare a vedere il georiferimento delle particelle nell'ambito delle basi territoriali per quanto riguardava le particelle appartenenti alle aziende agricole. Il test è stato condotto soprattutto nell'ambito di quella che è la provincia di Bologna attraverso quella che è una procedura abbastanza difficoltosa che non staremo qui a spiegare e che naturalmente stiamo cercando di perfezionare ma che ci ha già dato degli ottimi risultati e abbiamo condotto appunto il test sulla provincia di Bologna. La parte strettamente campita che si trova in tutta la parte del nord è quella più agricola ridosso della bassa mentre la parte sud è la parte appenninica dove chiaramente troveremo sicuramente molte meno aziende agricole. La concentrazione delle aziende che siamo riusciti ad agganciare è già un dato ottimo e ha delle percentuali decisamente molto alte. Gli obiettivi che abbiamo raggiunto è il discorso delle aziende agricole quindi il riferimento dell'azienda agricola in questa parte vediamo la diversa campitura semplicemente per il reticolo come praticamente siamo riusciti a portare nel reticolo delle sezioni di censimento Istat le diverse aziende agricole che ognuna delle quali ha una diversa colorazione e allo stesso tempo cosa è un elemento fondamentale per quanto riguarda il censimento dell'agrocoltura i macrousi culturali che praticamente troviamo in queste immagini sempre il discorso del reticolo delle sezioni di censimento con la linea dei macrousi il colore è abbastanza siamo del comune di Argelato alla poriferia nord-est di Bologna quindi il colore dei seminativi qua la fa praticamente da padrone adesso andiamo a vedere come questo strato poi questo strato informativo in uno shape file che contiene tutte queste informazioni è stato poi utilizzato per fungere da base per il censimento dell'agricoltura Sì, buon pomeriggio sono Claudio Santoro un collega della DCIP a valle quindi di questa preelaborazione da parte dei colleghi del territorio abbiamo utilizzato la piattaforma abilitante Pigeo che è la piattaforma che ad oggi è stata utilizzata come sistema di diffusione per gli atlanti statistici ed altri strumenti e per la prima volta abbiamo voluto utilizzare parti di questi moduli per poter utilizzare questa informazione prodotta dai colleghi e renderla fluibile in sistemi di acquisizione dell'informazione in prima istanza quello che abbiamo fatto è stato quindi quello di rendere standardizzare l'informazione prodotta dai colleghi e andarla a diciamo proporre su una soluzione fatta a servizi che può essere integrabile con qualsiasi sistema di raccolta dati quello che vedete è quindi quello che ha fatto vedere sostanzialmente Gianni l'informazione elaborata dai colleghi navigabile in tempo reale quindi sto parlando da solo ottimo era intanto intanto vi faccio girare il tablet perché è una soluzione cross platform cross device e lavora in modalità offline quindi questo significa dire che per il censimento dell'agricoltura sarà assolutamente utilizzabile in quanto facciamo vedere se avrei fatto vedere il tablet dovremmo vedere l'applicazione sì tu fai girare questo non mi ha uscito da qui perfetto allora quello che vedete qui adesso sull'applicativo sul computer è quello che vedrete nel tablet quindi sostanzialmente è un'informazione che lavora in maniera standard offline può essere navigabile su tablet l'idea è quella quindi di andare a inserire questa informazione per i rilevatori opportunamente profilandola e il sistema come dicevo è offline non ci sono soluzioni proprietarie è basato su una soluzione dell'istat interamente progettata e realizzata in istat quello che potete vedere vado molto velocemente si possono andare a sovrapporre informazioni terze quindi qui abbiamo per esempio l'informazione dei confini comunali piuttosto che andandola a navigare verso l'esterno la possibilità di vedere le province e le regioni quello che vedete qui utilizza una base map di tipo diciamo con ortofoto oppure con un'informazione più diciamo parlante a livello di stradario per intenderci e andando a cliccare sulle celle ci vengono date delle informazioni queste informazioni queste che vedete adesso sono dei codici dei codici non parlanti per lo più ma in realtà potranno essere arricchili di informazione quindi sostanzialmente in due parole per concludere il rilevatore potrà aver caricato sul proprio dispositivo offline l'informazione opportunamente profilata per lui e potrà utilizzare la stessa per navigarla sul territorio l'informazione stessa è tutta di tipo open quindi significa dire che non richiede libreria non richiede licenze e potrà essere utilizzata appunto in modalità offline da qui nel discorso del censimento dell'agricoltura quindi con una profilatura di aree non coperte da rete e poterla navigare sia per raggiungerla che per controllare per verificare l'informazione stessa grazie io volevo non so se vuoi chiudere volevo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato Enrico Gerarda Sandro e Claudio perché il gran lavoro che abbiamo fatto quest'anno quest'anno abbiamo messo insieme tutta l'infrastruttura della ricerca e ci avete lavorato è una cosa di cui parlavamo adesso abbiamo risultati cioè al laboratorio abbiamo tre progetti che sono andati e tre progetti che hanno prodotto risultati quindi questo è un gran successo non era scontato questo è dovuto ai team e a tutti quelli che hanno lavorato attorno al laboratorio però nella ricerca è importante far vedere che la ricerca è rilevante indipendente quindi da proposte indipendenti siamo arrivati a soluzioni rilevanti che sono sia per il laboratorio sia per diciamo Asia sia per il censimento sia per la produzione di nuove statistiche a livello territoriale e quindi è importante in qualche modo condividere siccome lo spazio della ricerca non è mai uno spazio dato cioè non è mai uno spazio che c'è è sempre uno spazio che uno deve conquistare facendo vedere la propria rilevanza faremo due giorni di presentazione di risultati uno il 3 ottobre dove presenteremo tutti i risultati del laboratorio ci avremo più spazio spero di coinvolgere il presidente e l'altro il 19 novembre in cui restituiremo tutti i risultati della ricerca discussa nell'ambito dell'advisor riporto sulla metodologia quindi la ricerca continua ad andare avanti però in questi giorni segnatevi sulle agende perché saranno importanti per grazie a tutti grazie grazie grazie